Musica Tecnici comunali sbagliano manovre con conseguenti interruzioni d'acqua, Sorical, Bacchetta e Municipi di Verbicaro, Grisolia e Maierà, in regola sul Tirreno Cosentino, solo Santa Maria del Cedro. Continua lo scontro, Sorical, Comune di Cosenza, dopo il tavolo tecnico ieri in prefettura, il Municipio Bruzio chiede priorità per le esigenze del capoluogo. Appelli di settembre a rischio anche all'Università della Calabria per lo sciopero dei prof che chiedono lo sblocco degli scatti contrattuali. Tragica immersione, questa mattina anno c'era a Terinese un sub 44enne di Lamezia e morto probabilmente a causa di un malore, inutili soccorsi. Cede solaio nel centro storico di Cosentino, il crollo in un appartamento abitato da un anziano che è stato allontanato, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile lo stabile. Lega Ambiente punta l'indice sulla gestione dei roghi, non solo colpa dei piromani ma anche di errori ed omissioni. Il rock protagonista al Festival di Altomonte, la Kermess giunta alla 32esima edizione. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, in primo piano lo avete sentito, ancora la crisi idrica provocata dalla siccità. La sorica allora punta l'indice contro alcuni comuni del terreno Cosentino, incapaci secondo la società risorse idriche di regolare il flusso dell'acqua. Sentiamo. Acqua razionata in Nervitesi, la Sorical punta l'indice contro alcuni comuni del terreno Cosentino, incapaci secondo la società risorse idriche calabresi di gestire le regolazioni idrauliche a Valle dei Serbatoi. I comuni chiamati in causa sono Verbicaro, Grisolia e Maierà, dove da diversi giorni si verificano delle vere e proprie interruzioni di pubblico servizio, indotte, scrive Sorical, dalle manovre errate da parte dei tecnici comunali, a pagare le conseguenze sui cittadini, ai quali non viene garantita l'erogazione di un bene primario come l'acqua, disfunzioni alle quali si è disposto inviando tecnici della Sorical per quella che viene definita regia notturna delle manovre, inerenti le reti idriche. È accaduto anche a Diamante, la perla del terreno, dove quest'estate non solo i residenti, ma vacanzieri e albergatori, si sono ritrovati più di una volta con i rubinetti a secco e tante polemiche. Dei comuni serviti dall'acquedotto Pantanelle, si precisa, solo il comune di Santa Maria del Cedro non risente di alcuna carenza idrica, il perché nell'investimento fatto negli ultimi tre anni, nell'efficientamento della rete interna comunale, aprendo due serbatoie applicando la tariffa a consumo, abbandonando quella forfè, peraltro illegale. Pertanto Sorical, conclude la nota, invita i sindaci ad attivarsi qualora il serbatoio di riperimento non raggiungesse il livello ottimale per garantire la fornitura sul territorio con delle chiusure della erogazione del medesimo e non con un'ulteriore richiesta di aumento di fornitura che non potrà essere basa per lo stato attuale delle sorgenti. Sarebbe oltremodo opportuno che la programmazione degli interventi strutturali della rete idrica comunale partisse già dai primi del mese di settembre, evitando, come già accaduto, che il problema si traduca in emergenza in estate e in particolare a ferragosto. La risorsa acqua non è infinita e non va sprecata. Prevenzione, ossia attivare misure che consentano una erogazione ottimale del prezioso liquido per evitare che l'emergenza acqua si trasformi in un tormentone come il mare sporco. E ieri vi abbiamo parlato del tavolo tecnico in prefettura tra Sorica e i 25 comuni serviti dalla Batemarco. In sostanza la Sorica l'ha chiesto ancora sacrifici ai comuni. La risorsa idrica, l'acqua, insomma, va razionata sempre di più. Il comune di Cosenza, dice, la città capoluogo ha delle priorità, non può essere messa alla stregua degli altri comuni più piccoli. Abbiamo in linea il sindaco di Cosenza, l'architetto Mario Chiuto. Sindaco, benvenuto intanto al nostro OTG. Buongiorno. Allora, torniamo al tavolo di ieri. Quali sono le esigenze del comune di Cosenza e perché Cosenza non può accogliere l'appello della Sorical? Guardi, Cosenza non solo ha accolto l'appello di Sorical, ma in questi anni ha subito più volte dei tagli di fornitura da parte di Sorical sulle quantità che avevamo messo in convenzione. Cioè noi abbiamo chiesto, abbiamo convenzionato 311 litri al secondo e invece ne abbiamo quasi sempre almeno 30 litri in meno. Adesso cosa succede? Io ho fatto un'ordinanza per obbligare Sorical a fornire questa quantità minima che è necessaria per i cittadini di Cosenza e prima il Consiglio di Stato nel 2012, poi adesso anche il Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche ha dato ragione al comune di Cosenza. Quindi di conseguenza Sorical sarebbe obbligata, è obbligata a fornire quella quantità e soprattutto è obbligata a farci controllare le quantità di acqua che ogni giorno entrano in città perché queste quantità sono pagate poi dal comune di Cosenza e di conseguenza da parte dei cittadini. Però poiché in questo momento c'è siccità ed è un problema di tipo regionale, di tipo complessivo, perché negli anni passati evidentemente non sono stati fatti gli investimenti adeguati, perché altrimenti la cabbia non avrebbe assolutamente nessun problema da un punto di vista della qualità di acqua che ha a disposizione, ma probabilmente, anzi sicuramente negli anni passati non è stata fatta una corretta politica in questo senso. Quindi noi abbiamo detto di accogliere per questi mesi una percentuale, così come quella che per i comuni condigui, di riduzione di fornitura dell'acqua, di accogliere la proposta di Sorical di riduzione di questa quantità. Fermo ne stando vuol dire che vogliamo agire anche per risolvere effettivamente questo problema. Sorical deve fare tutto quello che negli anni può consentire poi di portare l'acqua nei rubinezzi delle casse dei calapresi senza nessun problema. Sindaco, velocissimamente, il vero problema è che l'Abbate Marco è una condotta vetusta, ci sono moltissime perdite, riparare queste condotte è compito di Sorical o dei comuni? No, la condotta di Abbate Marco è di proprietà di Sorical, quindi i comuni non possono assolutamente intervenire, interviene Sorical. Ovviamente questa condotta è molto lunga, è una condotta che ormai ha diversi anni e quindi si verificano problemi ogni settimana, noi abbiamo quasi due interruzioni all'anno su questa condotta. È chiaro che i cittadini, lei mi fa la domanda, evidentemente neanche lei conosce qual è il problema vero, ma i cittadini scaricano tutto sui comuni e sui sindaci. In realtà queste condotte sono le reti di attuzione che fanno parte dell'acquedotto regionale che è gestito da Sorical. Quindi il gestore regionale deve, come è stato fatto in altre regioni, assumersi la responsabilità e dire chiaramente ai cittadini che c'è un problema vecchio di gestione degli acquedotti regionali da parte della regione Calabria, non sono stati fatti investimenti adeguati, non è stato mai immaginato un ciclo virtuoso di gestione dell'acqua che vada dalle sorgenti e arrivi fino ai cittadini direttamente. Quindi non sono stati mai fatti investimenti, alcuni sono in corso da decine di anni, come la riga del Menda, quella dell'Esaro. Qui bisogna che ognuno si assuma la responsabilità. Poi è chiaro che i comuni faranno la loro parte, ma una parte che è assolutamente non risolutiva solo nella questione che riguarda il problema dell'acqua. Noi per quanto ci riguarda abbiamo comunque l'ordinanza che è stata convalidata al tribunale delle acque, quindi ci aspettiamo che si comporti di conseguenza, altrimenti è un reato penale. Grazie, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro. E noi cambiamo argomento, parte lo sciopero dei prof all'università, anche l'Università della Calabria, ci sono esami a rischio, protesta dei docenti che chiedono lo sblocco degli scatti di stipendio bloccati negli anni scorsi, ci sono gli studenti molto preoccupati, vediamo. Cinque anni di lavoro buttati al vento, un lustro scomparso nel nulla. I docenti universitari protestano per rivendicare il diritto a vedersi riconosciuti gli scatti dello stipendio, sospesi dal 2011 al 2015. Dal primo gennaio del 2016 lo stipendio di docenti e ricercatori ha ricominciato a crescere, ma senza effetti progressi. Sono cinque anni assolutamente cancellati, non esiste più l'antianità di servizio, come se per cinque anni nessuno avesse lavorato, sebbene dal primo gennaio del 2016 gli stipendi siano stati bloccati, i cinque anni precedenti sono stati totalmente cancellati. Il movimento della dignità della docenza universitaria ha proclamato uno sciopero che è fatto i piedi e giurerà per questa sessione autoniale. I docenti hanno deciso di scioperare saltando ognuno un appello di esame, una mobilitazione che coinvolgerà almeno 5.500 professori, anche se, secondo il movimento organizzatore della protesta, alla fine l'adesione sarà maggiore. Io penso che potranno essere certamente di più. 5.500 sono quelli che hanno firmato l'adesione del sciopero in una prima fase, ma qualunque docente può partecipare allo sciopero anche non avendo filmato la proclamazione. Questa mattina, notizia dell'ultima ora, il ministro è intervenuto alla radio e ha detto che la materia sarà trattata nell'abito della legge di bilancio. Però niente di concreto fino ad ora. Gli studenti sono preoccupati, temono di non poter recuperare gli appelli che salteranno. Il Consiglio degli studenti dell'Unical ha sollecitato la convocazione di un senato accademico per discutere della questione, tra le proposte, quella di ampliare la sessione di settembre per permettere almeno ai ragazzi che devono laurearsi di non perdere ulteriore tempo. Lo sciopero è stato strutturato in maniera tale da danneggiare gli studenti il minimo possibile. È chiaro che qualsiasi sciopero ha un minimo di disagio, però agli studenti è stato assicurato un ritardo in pratica di 14 giorni per i loro esami, perché in ogni caso ci sarà o un altro appello o un appello straordinario. Nuovo crollo nel centro storico di Cosenza, queste e tante altre notizie nelle nostre brevi. Paura nella città vecchia a Cosenza per il crollo di un solaio. Questa mattina un 86enne che abitava nell'appartamento è stato trasferito in un albergo della città, sul posto i vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibile l'intero stabile. E' annegato questa mattina a Nocera Terinese un sublametino. L'uomo, 44 anni, è stato colto probabilmente da malore mentre stava praticando pesca subacquea. I primi soccorsi in spiaggia sono stati i bagnanti a lanciare l'allarme sul posto i carabinieri, la Capitaneria di Porto e i sanitari del 118. Trovate dai carabinieri nel Regino tre piantagioni di canapa indiana. I militari di Locri, nelle aree edemaniali, in località Ferraro di Siderno, in una piazzola hanno rinvenuto 500 piante di canapa indiana dell'altezza superiori a un metro. I militari di San Luca hanno trovato un'altra piantagione con 400 arbusti estirpati e diversi sacchi colmi di infiorescenze di cannabis per un peso complessivo di circa 25 kg. L'ultima piantagione, infine, si è trovata a Rosarno dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che hanno arrestato una 76enne sorpreso a coltivare all'interno di un terreno di sua proprietà oltre 60 piante di canapa indiana. Un 17enne è stato arrestato dalla polizia per il sequestro Lampo e l'aggressione ieri dell'imprenditore Pasquale Russo a San Lorenzo Marina nel Regino. La polizia ora cerca complici del minorenne ucraino. Sono gli incendiari i nemici dell'ambiente, ma Comune e Regione devono fare di più e presto per evitare che la situazione emergenziale si croniciti. L'Egambiente chiede una pianificazione della gestione delle foreste e un protocollo di legalità per il settore boschivo e la filiera delle biomasse. Sentiamo. Dalle città ai boschi, la Calabria è sotto assedio, con la provincia di Cosenza maggiormente interessata da un fenomeno pericoloso per l'incolumità della popolazione e per l'ambiente. In attesa di fare una stima definitiva dei roghi e dei danni, il bollettino purtroppo si aggiorna di ora in ora, l'Egambiente stira un'agenda di cose da fare per far sì che l'estate 2017 non si replichi all'infinito, così come tutte le altre emergenze calabresi. Bisognerebbe che i comuni finalmente dessero seguito a quello che è un'imposizione legislativa, quella di realizzare il catastro delle aree percorse dal fuoco, di modo che gli interessi poco leciti che ci sono all'interno della nostra regione, nella filiera del bosco, legati soprattutto al ragionamento dello sfruttamento della biomassa, siano demotivati. La legge quadro sugli incenti pone il divieto di 15 anni del cambio di destinazione d'uso e quindi questo impedirebbe gli appetiti dell'andrangheta nella zona di Suvereto, a caporizzuto, oppure quello di utilizzare la biomassa perché c'è il divieto per 5 anni di attività di rimboschimento. È vero, sono gli incendiari maggiori responsabili di quanto sta accadendo, ma non è esente da colpe chi non programma o ritarda l'attività di contrasto per approssimazione o inefficienze. La regione dal suo conto deve cercare di programmare anzitempo quello che è il piano di avvistamento in genti boschivi perché è inaccettabile che la legge impone che dal 15 giugno debbano essere abbiate tutte, pianificate tutte le azioni e Calabria Verde approva il piano esecutivo dell'avvistamento in genti boschivi il 3 luglio e stipula la convenzione il 3 luglio. Quindi nessuno può tirarsi fuori rispetto a quelle che sono le proprie competenze perché poi leggiamo gli articoli nazionali sulla stampa nazionale che dicono come abbiamo 5.833 operai forestali e non riusciamo a garantire il presidio del territorio perché è chiaro che c'è stata la mano dolosa degli incendiari, ma c'è stata l'irresponsabilità nell'intervento a terra, i ritardi, gli incendi che sono partiti e ripartiti più volte perché è chiaro che non può essere solo l'intervento aereo a spegnere i fuochi se non c'è un intervento a terra di bonifica degli operai forestali che negli anni facevano. Una programmazione e una prevenzione con la realizzazione delle fasce tagliafuoco, con la giusta manutenzione delle piste forestali per accedere immediatamente sulle aree percorse dal fuoco, così come è stato sbagliato a livello nazionale l'accorpamento tra i carabinieri e il corpo forestale dello Stato, delegando tutte le attività di spegnimento ai vigili del fuoco. La crisi edilizia al centro di un convegno organizzato a Vibo Valencia, il presidente di Confedilizia, Spezialni Testa e il parlamentare Capezzone hanno affrontato i temi legati alla tassazione eccessiva che ha trasformato gli immobili in investimenti persi. E' sufficiente censire i tantissimi vendesi esposti per le strade ormai senza soluzione di continuità per comprendere che la crisi immobiliare che colpisce ovunque in Italia e dal sud in particolare è il risultato di una situazione critica che si porta avanti ormai da troppo tempo senza la volontà politica di risolverla. E' stato questo uno dei punti forti dell'incontro dibattito dal significativo titolo Casa e Bottega Quale Futuro che alla biblioteca comunale di Vibo Valencia ha messo a confronto il presidente nazionale della Confedilizia, Giorgio Spezialni Testa, e della parlamentare Daniele Capezzone. L'incontro ha posto l'accento sulla questione profonda di una crisi del mattone provocata dalle soluzioni vessatorie che i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno utilizzato per fare cassa, colpendo essenzialmente le famiglie italiane che hanno sempre considerato la casa come un bene rifugio. Purtroppo è diventata un peso in molti casi, soprattutto quando si tratta di immobili che erano da investimento, nel senso che i proprietari vanno acquistati per metterli a reddito, come si dice, affittarli, darli in locazione, oppure quando vengono ereditati. In tutti questi casi gli immobili sono un peso e sono peraltro non più commerciabili in molti casi. Quindi c'è un mercato immobiliare che si limita alla prima casa in questo periodo e quindi anche e soprattutto per via della tassazione introdotta a partire dal 2012 c'è un problema grave del settore immobiliare dato appunto dall'eccesso di fiscalità. Qual è il bene che l'80% delle famiglie italiane ha? La casa di proprietà, a volte anche una seconda piccola casa al mare o in montagna che non può essere criminalizzata o presentata come un lusso. Qual è il bene che dal 2011 in poi è stato più massacrato di tasse? Esattamente la casa, la proprietà immobiliare. Allora io mi permetto di dire che un serio spartiacque per valutare la serietà delle forze politiche e nei prossimi mesi è vedere chi vorrà, ma non a chiacchiere, davvero ridurre la tassazione immobiliare sulle seconde case, sugli immobili strumentali alle imprese, negozi, botteghe artigiane, capannoni industriali, studi professionali. Questa è la via per ridare fiducia alle famiglie, per ridurre una tassazione sugli immobili che è francamente eccessiva e anche per aiutare un recupero di valore di un patrimonio immobiliare che è stato deprezzato anche a causa di queste tasse. A Montalto Fugo riscoperta e celebrata una pièce teatrale, la figura del religioso e astronomo Paolo Antonio Foscarini. Fatti non foste a vivere come bruti, ma perseguire virtute e canoscenza. Il giorno dopo il galà di chiusura del Festival Leon Cavallo di Montalto Fugo, una pièce teatrale intensa e di grande impatto emotivo a cura di Roberto D'Alessandro ha calamitato l'attenzione di un numeroso pubblico. De mobilitate terre et stabilitate solis. Questo è il titolo della rappresentazione dedicata a uno dei montaltesi più illustri, il padre carmelitano Paolo Antonio Foscarini. Il Festival Ruggero Leon Cavallo continua con la serata dedicata a Paolo Antonio Foscarini, un grande figlio di Montalto Fugo, vissuto nel cavallo dal 5 al 600, nato intorno al 1562-65 e morto nel 1616 e si è inserito in una discussione molto ampia sull'eliocentrismo, ha scritto una lettera molto importante indirizzata al Berlarmino e ha fondato un'accademia importante, conventi. È stato un personaggio enorme con questo recupero della memoria in generale storica che stiamo avendo un po' tutto il sud. Anche Montalto prende coscienza dei suoi figli più importanti, grande pensatore, che sarebbe il caso di studiare più approfonditamente. Paolo Antonio Foscarini fu un vero e proprio rivoluzionario per i suoi tempi. Nello stesso anno in cui Galileo Galilei, con la sua lettera a Madama Cristina di Lorena, granduchessa di Toscana, tentava di ridimensionare la posizione autoritaria delle sacre scritture rispetto alla scienza moderna, Foscarini a Napoli pubblicava un libro dal titolo Lettera sopra l'opinione dei pitagorici e del copernico della mobilità della terra e stabilità del sole. La cosa destò molto scalpore, in quanto per la prima volta un religioso e per giunta di provincia aderiva pubblicamente al credo copernicano. Oggi la statura di questo personaggio non è stata ancora doverosamente studiata e approfondita, ma sicuramente, visto l'interesse e l'emozione suscitata dalla rappresentazione di Roberto D'Alessandro, molto presto a Foscarini saranno dedicate giornate di studio e di ricerca proprio nella sua città natale, Montalto o Fugo. All'Alto Monte, adesso per il rock che è stato protagonista del festival, vediamo. Per tutti i fans degli U2 che non hanno visto l'attore mondiale della band irlandese che lo scorso anno ha festeggiato i 40 anni, ci hanno pensato gli U2 Underskin, una band tutta italiana della vicina Puglia, formatasi nel 2008 con l'idea di portare in scena lo spettacolo U2 in modo fedele, curando i dettagli e le componenti per dare vita ad un tributo grandioso. Il viaggio musicale della famosa band irlandese, formatasi a Dublino nel 1976, ha fatto cantare le persone dell'anfiteatro Costantino Belluscio nella diciassettesima edizione dell'Alto Monte Rock Festival, diretta da Giulio Pignataro ed inserita nel cartellone della trentesima edizione del festival Euro Mediterraneo patrocinato dalla locale amministrazione comunale. Vedendo dei video abbiamo scelto gli U2 Underskin perché imitano totalmente la rock band irlandese e soprattutto sequenzialmente fanno i brani più conosciuti. Un viaggio nel tempo e negli anni della band irlandese, riproponendo i brani più conosciuti e apprezzati di una delle rock band più acclamate al mondo. Hanno avuto oltre 100 date quest'anno, quindi in tutta il sud Italia e Alto Monte è una delle mete degli U2 Underskin. Nicola Marra Bono, Roberto Marra, Edge, Alessandro Spenga, Larry Mullen, Rocco Mauro, Adam Clayton hanno riproposto il vasto repertorio che riprende le origini degli U2. È stata la rock band che ci ha fatto sognare da Guanni, da Guido Guidaugio, San Debbela di San Debbela. Prima degli U2 Underskin, sul palco dell'Anfiteatro Costantino Belluscio, si erano esibiti i giovani emergenti della musica rock italiana. Il cantante hip-hop Pica, Valerio Capparelli e Zeno. E domani sera alle 19.30 nella sala Baccelli di Marano Principato, la presentazione alla stampa della seconda edizione del festival Esperire Marano in Arte, ideato dal maestro Tarcisio Molinaro in collaborazione con l'amministrazione comunale di Marano Principato. Il festival si svolgerà nella prima decade del mese di settembre e nasce con l'esigenza di far rivivere e accrescere sempre più la cultura e le tradizioni. Dopo la conferenza stampa, il concerto start-up di Andrea Infusino. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da MeteoInCalabria.it Oggi possibili temporali pomeridiani, poi da domani tornerà a rafforzarsi l'anticiclone africano che manterrà le temperature sopra media in un contesto di bel tempo. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Oggi sereno poco nuvoloso ovunque. Nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità nelle zone interne con possibili temporali su Pollino Centro-Occidentale, Alta Valle del Crati, Sila e Catenzarese. Temperature massime in lieve calo. Domani sereno poco nuvoloso ovunque. Temperature massime in aumento e sopra le medie del periodo. Vediamo ora invece il comportamento di mari e venti. Oggi mari mediamente poco mossi, localmente mosso lo Ionino Crotonese. Venti deboli o moderati da quadranti settentrionali. Domani mari poco mossi o mossi, ma con motondosi in attenuazione. Venti ancora deboli o moderati da quadranti settentrionali. Per tutti i dettagli www.meteo.inCalabria.it È tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Mi auguriamo un buon proseguimento.